Perché sono troppi gli esercizi commerciali che appunto chiudono in Molise, si tratta di una desertificazione commerciale che si ripercuota inevitabilmente anche sul piano sociale, ma ascoltiamo. Non si parla spesso di commercio ma soprattutto oggi dobbiamo parlare di desertificazione commerciale in Molise. Tantissimi sono gli esercizi commerciali, i classici negozi che si avevano nei piccoli centri ma anche in quelli più grandi. Nei piccoli centri stanno mano 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 sparendo e quindi ci riferiamo al negozio di generi alimentari ma anche della macelleria, ma così anche dei piccoli forni che comunque garantivano lavoro a tante famiglie. Ed è una desertificazione che mette ancora una volta a serio rischio le aree interne, ma sono anche i centri più grandi, Campobasso, Iserni e la stessa Termoli, che oggi soffrono dell'assenza almeno di esercizi di vicinato di quelli che un tempo servivano anche per fare due chiacchiere. Tutto questo passa per una legge regionale sul commercio che ormai è datata, una legge regionale sul commercio che ha privilegiato, approvata ormai oltre dieci anni fa, ma che privilegiava in pratica l'apertura dei grandi centri commerciali, delle grandi strutture di vendita che hanno finito per fare cosa? Per drenare denaro dalle nostre parti e andare a investire altrove e poi hanno invece facilitato la chiusura dei piccoli esercizi commerciali. È chiaro che tutto questo oggi si paga e si paga in una regione che sta soffrendo per lo spopolamento, di una regione che sta soffrendo per le aree interne che non hanno attività e non hanno speranze di futuro, ma stanno portando a un degrado sociale anche i centri, poi quelli più grandi, perché quando si spopolano i centri diventa tutto più misero, tutto più immiserito. È chiaro che dovrebbe essere anche questo un argomento forte della politica regionale, proprio perché la desertificazione commerciale che si affianca alla desertificazione sociale rischia di compromettere l'equilibrio che si era avuto nel corso degli anni in Molise che ne aveva fatto appunto un'isola felice. Tutto questo oggi con la scomparsa di tanti soggetti presenti sul territorio ne fa una terra soltanto immiserita.